Buongiorno, chiederei una medicina per l'anima, libero, chiederei un personaggio di quattro edizione, non ho mai saputo tutto, ho tre grandi pregi di questo a poco, è semplicissimo, l'ho scritto io, io e il mondo. La pianta di oggi è la brassio catena interdosa, brassio nodosa per catena intermedia. Questa qui è un vecchio ibido che avevo fatto io, è uno dei primi ibido che ho fatto, solo che l'ha già registrata dagli americani come interdosa, per cui si chiama interdosa, e comunque brassio nodosa per catena intermedia, viene sempre più o meno con l'epoca qua, fa i fiori anche un po' più grandi di così, perché da un po' di tempo li gocceviamo un po', li teniamo un po', non voglio che ingrassino troppo. Allora, oggi voglio parlare delle prossime mostre che ci saranno, il primo fine settimana di settembre ci sarà la mostra qui all'agricola varese, quest'anno ci saranno una novità importantissima, perché viene Graziano Maroggio. Allora viene la ditta, la Corte delle Orchidee, che vorrebbe dire la Corte delle Orchidee, che è lì vicino a Parigi, periferi di Parigi, con Nicolà che è il titolare, non mi ricordo il cognome, con Nicolà, un ragazzo bravissimo, che eravamo vicini quando c'erano le Occe, l'europeano che è chiuso a Parigi nel 2018. E Graziano, quando ha chiuso, perché lui è stato un po' di giorni all'ospedale, è da solo, si è stato via da solo, inserrava tutto il ramego. Allora, quando si è all'ospedale, pian piano ha venduto tutte le piante e ha chiuso l'azienda. Adesso ogni tanto dà una mano a Nicolà, la Corte delle Orchidee, e vengono giù insieme alla mostra qui a Varese. Graziano Marongiun è stato il personaggio probabilmente più amato delle Orchidee in Italia, perché lui veniva a vendere le Orchidee in Italia per Marcelle Cuffe. E Marcelle Cuffe era l'azienda, Marcelle Cuffe non era un'azienda di Orchidee, era considerato il santuario delle Orchidee, perché la gente quasi ci andava in pregrinaggio. E Marcelle Cuffe e Graziano Marongiun c'è stato per tantissimi anni il direttore dell'azienda. Eccolo che è uno espertissimo di Orchidee, ma è uno molto brillante, simpatico, però serissimo nel lavoro. E vi metto sotto la storia che l'ho scritta nel libro, è veramente un personaggio fantastico, vale la pena di conoscere. Ci sono tanti bellissimi aneddoti di Graziano Marongiun. Lui veniva per Marcelle Cuffe al Flormert a Padoa, la fiera di Padoa, due volte l'anno, a marzo e settembre. In una di queste occasioni c'erano sul tavolo due catreie identiche e c'era lì una persona interessata a queste catreie, a uno di queste catreie. E Graziano gli stava spiegando. Quando da lontano è arrivato un grande appassionato di Venezia, si chiamava Dindri, un grande economico, un grande appassionato, e come ha visto le due catreie, d'autano, che bella, che bella, sono mia, ha preso in mano le due catreie. Graziano gli ha detto, guarda che posso, lui ne vuole una, eh. Ma no, no, le voglio io tutte le due, che bella, che bella, sono mie. Oh, quell'altro è andato nel stato di conoscenza, che bella, che bella, ma come si chiama? Dice, catreia forbesi per moce. Ma come, è un libido? E si fa, che brutta, che brutta, non le voglio più. E uno dei tanti aneddoti che mi ha raccontato ogni tanto di Graziano. Un altro molto carino, in Italia c'era uno che era sempre, c'era sempre da reclamare questo, che non gli andavo mai bene niente, era sempre da reclamare. E una volta, tra i tanti reclami che ha fatto a Graziano, gli ha detto, ma poi c'è quella pianta lì, che è la foglia di sinistra, che è più corta di quella di destra. E mi ha detto, ma dai, e qual è quella di sinistra e quella di destra? Perché se giù la pianta, ho messo. Però è una persona da conoscere, assolutamente. Io cercherò di andare giù, a meno che non sto bene, che non sto a casa, perché se mi si accende la spia, riposati, devo tornare indietro. E noi siamo qui a 5 km dall'agricola, per cui sono comodo andato indietro. Ma se posso, perché io ho una gran nostalgia delle morse, vengo giù io. Però a Graziano è da conoscere. Quindi la settimana dopo, a Agricola, qui all'Orchidea, c'è la grande morsa di Orchidea, un altro garden bellissimo, a Mercenasco, il garden Peraga, famosissimo in tutta Italia, mi giuro che fa un mare di vendita per corrispondenza, garden Peraga di Mercenasco. Ecco, il nome dell'Orchidea si chiama Orchis Day, perché lui, a un certo punto gli ha detto, guarda qui, se l'avevo mostrato in grandi difficoltà, bisogna trovargli un nome. Allora lui ha fatto un concorso tra i suoi clienti, chi trovava il nome più bello, ce l'ha in palio, mi sembra 400 euro di piante. Il nome più bello, più votato è stato Orchis Day, e la morsa si chiama Orchis Day. Ok, a domani.